Diciamo che è diverso ogni stagione perché gli interpreti cambiano e cambiando gli interpreti cambiano anche i modi di lavorare, cambiano le strutture fisiche, cambiano i programmi personalizzati. Questa base inizialmente si cercherà di creare una base a livello aerobico e di forza per poi passare a ritmi partita per cercare di essere pronti alla prima partita del campionato. Per il preparatore atletico è gratificante ed è anche importante ripartire perché vuol dire che il lavoro dell'anno scorso a livello fisico è stato apprezzato e questo è molto gratificante e importante. Quest'anno si risetta tutto, si riparte da zero con più voglia e con interpreti in più. Lavorare a basse quote tra virgolette perché questa è la preparazione e il ritiro si svolge a terra ma cosa cambia rispetto a località montane? Se si va su località montane di circa 1000 metri, non c'è questa grossa differenza, infatti molte squadre hanno optato anche di categorie superiori di ritiro locale.